. Albano e l'Alecciso non stanno più insieme Cancelletto Albano Carrisi è intervenuto durante la trasmissione Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il cantante, in collegamento telefonico, ha dichiarato che la sua storia con Cancelletto Loredana Lecciso è giunta al capolinea, per cui ora si può affermare con certezza che Albano e Loredana non stanno più insieme. . Inoltre, l'artista ha precisato che il motivo della fine della sua relazione con l'Alecciso non è la sua ex moglie, Cancelletto Romina Power. . Alcuni, infatti, hanno insinuato che, proprio nel momento in cui il cantante di Cellino San Marco e Romina hanno ricominciato con il loro sodalizio professionale, sarebbe iniziata la crisi. . Evidentemente sono altri i motivi che hanno portato i due a decidere di lasciarsi, da mesi Loredana Lecciso ha lasciato Cellino, dicendo di volersi prendere una pausa di riflessione. . Dopo pochi minuti dalla dichiarazione di Albano, ha telefonato in trasmissione anche l'Alecciso ed è scoppiata una lite tra i due. . 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 Dunque, è finita così la storia tra Albano e Lauren e Dan ha lecciso che si sono lasciati senza darsi una seconda opportunità per ricostruire il loro legame. . . A detta del cantante, lui la ha lasciata andare via, proprio come fece con la Power che volle ritornare in America. Grazie a tutti.